vi ricordate questa telecamera dove noi firmavamo i nostri video per i nostri ricordi i nostri bambini a fine anni 90 inizio 2000 ve lo ricordate sì perché in questa telecamera noi facevamo i registi e registravamo su queste cassettine qui ovviamente queste cassettine qui noi non possiamo più utilizzarle perché non abbiamo dispositivi adatti perché ad oggi abbiamo gli smartphone abbiamo i sistemi software quindi tutto è digitalizzato ad oggi noi possiamo utilizzare questo come utilizzando l'accessorio che ho fatto il video qualche tempo fa la usb convertitore di vhs infatti vi faccio vedere questa qui dove abbiamo fatto l'ultimo video vi lascio la scritta qui sopra se voi cliccate la scritta vi porta al video su questo questo video qua dove convertiamo le cassette vhs in file ma prima di ogni cosa vorrei chiedervi di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace qui sotto così da poter sostenere il canale poter portare altri contenuti molto importante tutto gratuito ma se volete offrirmi un caffè vi lascio il QR qui qui sotto qui da qualche parte il QR o il link in descrizione per potermi offrire un caffè utilizzando paypal non sapete utilizzare paypal? paypal potete avere un account un vostro portafoglio digitale per poter pagare le cose online in maniera del tutto sicura vi lascio anche qui sopra il link di come poter fare un account paypal ma ritorniamo a noi quindi ad oggi in questo video vedremo come registrare queste cassette nei nostri file quindi venite con me e vi faccio vedere è bene tutto quello che dovete fare come vi ho detto è avere la vostra telecamera e andare ad aprire qui in questi punti qua dove ci sono i connettori le porte di entrata e uscita ovviamente vi servirà il vostro il vostro cavetto che ve lo faccio vedere il cavetto della telecamera dove da una parte avrete l'entrata per la telecamera per la telecamerina e dall'altra parte avete i tre RCA quindi gli RCA sarebbero audio destro audio sinistro questi due bianco e rosso in genere e il giallo è sempre la sorgente video quindi questo qua vi servirà basta fare basta infilare questo qui nella vostra telecamera infatti vi faccio vedere qua basta infilare questo qui ok e dall'altro lato prendere la nostra convertitore nostra chiavetta convertitore e mettere negli stessi colori quindi audio mettiamo anche l'altro audio e l'altro parte video lato video ok e così facendo abbiamo la nostra chiavetta convertitore eccolo qua semplicemente non dobbiamo fare altro che andarlo a mettere nel nostro computer nella porta usb quindi andare a metterlo di lì una volta infilato la usb cosa dobbiamo fare andiamo aprire il programma obs vi faccio vedere ok allora una volta aperto il vostro programma obs che vi lascerò il link qui sotto in descrizione oppure andate su google e scrivete obs e fate il download vi caricherà questo programma in questo programma qui è molto utile perché noi praticamente andiamo a impostare il video dobbiamo andare su scene trovate scene qui fate più io al momento ce l'ho già però datelo ok quindi qui sopra avete la vostra scena creata le fonti dovete andare su più cattura dispositivo di cattura datelo ok poi vi porterà questa finestrella qui datelo ok al momento che avete questa parte qui dovete andare dispositivo e cercare la vostra il vostro dispositivo quindi a questo caso av usb scusate facendo così noi adesso andiamo ad accendere la telecamera lei si accenderà ed ecco che avremo già attivata la il video diamo l'ok e qui vi creerà questa roba qua vi faccio vedere bene vi creerà questa robetta qui anche perché è piccolo ovviamente il video è un video non in risoluzione quindi noi andiamo ad ampliare un po mettiamolo almeno un po nel centro ok e in questo caso abbiamo la sorgente video nel caso che dovete inserire anche l'audio ovviamente cliccate sul tasto più dispositivo cattura l'audio in entrata e scegliete l'audio dispositivo quindi in questo caso av2 usb ecco tutto quello che dobbiamo fare adesso è fare play nella nostra telecamera come vedete io adesso in questo caso non c'è non ho messo la cassetta però come vedete si vede la telecamera semplicemente bisogna andare su avvia registrazione se fate avvia registrazione lui vi salverà quel file voi avviate come vedete qui la registrazione partita rec se volete fermarla ovviamente fate termina registrazione e in questo caso lui me lo andrà a salvare ecco ce l'abbiamo qua che l'ho salvata dove il play e io vedrò il video che ho registrato molto semplicemente quindi mi raccomando non perdete i vostri amati video perché sono molto importanti e sempre bello vedere quando eravamo piccoli oppure i nostri figli quando erano piccoli ed è molto molto bello tenerli nella nostra memoria attraverso questi software che sono molto utili nella tecnologia perché la tecnologia se usata bene è una cosa positiva ma se usata bene mi raccomando quindi detto ciò io vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale qui sotto e se volete offrirmi un caffè non dovete far altro che scansionare il QR oppure andare a cliccare nel link in descrizione e mi offrirete un caffè semplicemente sarebbe un supporto per sostenere questo canale in modo da poter portare altri contenuti perché l'unico obiettivo che ho per questo canale è aiutare voi persone che magari non sanno molto di tecnologia a poter utilizzare la tecnologia in maniera semplice quindi mi raccomando rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video ciao